Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l'accesso alla rete dei 13.000 uffici postali in modo semplice e sicuro, come previsto dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022 numero 1. Negli uffici postali dotati di gestore delle attese, i clienti mostreranno l'accesso al QR code del Green Pass e una volta riconosciuto nel codice, il gestore attese consentirà di scegliere l'operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri uffici postali, i clienti dovranno mostrare il Green Pass direttamente allo sportello per la verifica attraverso il lettore barcode dall'operatore che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Ed infine nei prossimi giorni, i cittadini che prenoteranno l'appuntamento utilizzando le app di poste italiane potranno verificare il Green Pass già in app, mentre per coloro che effettueranno la prenotazione sul sito poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale. Grazie alle diverse soluzioni introdotte, l'accesso agli uffici postali sarà semplice e veloce e nel rispetto delle norme previste per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19. Si ricorda ai cittadini e ai clienti che l'offerta di servizi e prodotti di poste italiane è disponibile anche sui canali digitali, il sito www.poste.it e le app di poste italiane.